Ciao a tutti, lui è Luis e lei è Sofì e benvenuti nella BOSS CHALLENGE Più alta, là sopra, io l'avremmo già andai Abbiamo qui una scatola con delle domande Sofì dovrà cercare di rispondere a più domande possibili in un minuto Preparazione? Sono pronta, dai Preparazione? E certo, mi devo preparare mentalmente, psicologicamente Hai un minuto a partire da adesso Quando è stata l'ultima volta che hai il riso? Un secondo fa Qual è il tuo gusto di gelato preferito? Cioccolato ovviamente È stato inverno, estate? Sono bravissima Ti sbrodoli quando mangi? Sì, abbastanza Qual è la tua fiabba preferita? Se fossi su un isola deserta, chi vorresti con te? Tira, il mio cagnolino Poi, qual è il tuo capo? Preferito del tuo guarderoba? Un maione giallo bellissimo Tento scorre Quale superpotere vorresti avere? Il teletrasporto ovviamente Per ora sarai in un altro posto, non qui con lui Qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare una cantante? Ti piace fare shopping? Che domande sono, certo Sei secondi Come sarebbe il tuo giorno perfetto? Pizza, dormire, pizza, dormire, pizza Uno, zero Uno, due, tre Nove E dieci Ma sono tantissime Ah! Ce n'era anche un altro Grazie, grazie, grazie Sono la regina delle box challenge Il video di oggi si conclude qui Un bacione, un abbraccio e like me! Ho, ho, ho Un bacione, un abbraccio e like me! Na, 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 na